Qualcuno ha già dovuto disdire le proprie vacanze all'estero, altri invece hanno rinunciato in partenza. Viaggiare durante la pandemia è diventato complicato. Nella giungla di norme d'ingresso che variano da paese a paese, i più distratti rischiano di non riuscire a partire per le tanto attese vacanze, o peggio come già accaduto in qualche città, di rimanere bloccati nel luogo di villeggiatura. Ad oggi chi ha deciso di trascorrere le vacanze in Italia può raggiungere liberamente, con qualsiasi mezzo o ogni regione, senza obbligo di presentare certificati. Ma lo scenario potrebbe cambiare a partire già dalla prossima settimana. La prima incognita riguarda proprio l'entrata in vigore del decreto Covid, che porta con sé l'estensione dell'obbligo del Green Pass, il quale dal 1 agosto potrebbe essere necessario per viaggiare anche su aerei, treni e traghetti. Più complicata la situazione per chi deciderà di andare all'estero nei paesi dell'Unione Europea. Qui servirà anche il PLF, un documento digitale che contiene tutte le informazioni che riguardano il proprio itinerario, identità dei passeggeri, tappe e mezzo con cui ci si sposta. Senza questo modulo l'ingresso nei vari paesi dell'Unione Europea non sarà consentito. La pre-totazione ce l'ho, vado all'isola d'Elba e l'unico problema è con il Green Pass adesso per vedere le vaccinazioni. Io vado in Sicilia e parto domani, quindi non ho disdetto nulla, parto con le mie amiche. L'aumento dei contagi che c'è stato in altri paesi ti spaventa anche le notizie che hai sentito, non so ad esempio male? Comunque noi siamo tutti vaccinati, si prendono le giuste precauzioni, ovviamente non si frequenteranno posti affollati, le discoteche e tutto, però c'è da fare visitare le città, fare i turisti, andare al mare e secondo me si può stare tranquilli. E poi ci avevano dato la possibilità a questa agenzia di partire per la Spagna, però adesso abbiamo visto che ci sono proprio i contagi che aumentano tanto con questi ragazzi che partono e poi devono stare chiusi in questi hotel Covid da soli per fare le quarantene. Ed è una cosa terribile a parer mio stare lì senza genitori, da soli, dei ragazzi così giovani e quindi mi spaventa molto come cosa. Quest'anno si resterà più a pesaro al mare, ecco. Sì, è un po' confusa la questione. Se devo andare per non poter essere completamente libera, allora magari preferisco fare qualcosa un po' più contenuto, però poter essere un po' più a mio agio anche. Ho dovuto disdire una vacanza proprio nella settimana di ferragosto perché avevamo prenotato in Croazia ma probabilmente tornerà alla zona arancione e quindi abbiamo dovuto rinunciare. Io in realtà non avevo prenotato nulla ma vista la situazione direi che non è il caso di prenotare niente in questo momento anche perché qua va solo peggiorando, quindi starò a vedere autunno come andrà, insomma, sperando. Devi tenere conto, però dai, anche col Green Pass adesso un po' la situazione è tranquilla, puoi prenotare tranquillamente. Tu avevi prenotato una vacanza? Sì, l'ho prenotata, cioè ancora la devo prenotare, la sto prenotando, però per il momento sta filando tutto liscio.